... ... ... ... ... ... ... Tutto sta stando in gara d'occhi e gira Stefano, si fate le crone Fiscio, forza Fiscio 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 bravo arciulo bell'ambicino dico un saluto un saluto ci sono delle bestemmie oggi è un giorno santo e c'è ancora la gente che bestemmia come è permesso questo è vero oggi la benificazione di Papa Guadiva non abbiamo avuto inviati da San Pietro per questa occasione grande caro ci saremo quando sarà fatto santo Tony colpo di testa andò piccolo il 10 la bandaggia la 1 era noi 1 ponga il famoso raglia quindi devo far solo i saluti a Genova ora Perugia ora Rimini ora Cesena ora Messina sì dove vado vado ci saranno i saluti infatti pure voi che ci ricordate le partite quando vi trovate in un posto bello pensate anche a noi di Telerofrano fateci un video saluto ciao Teodoro ciao non a me tutti gli amici che seguono Telerofrano Telerofrano è tutto a voi studio wow mette una pezza Tonino sempre Tonino sempre Tonino oh poi è vissero perla ormalli cazzo ormalli cazzo oh oh è vissero oh 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 quando si dice che un uomo è forte è forte oh 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 no oh 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 mi stai mettendo a chiama vianda potente octolan tentue qua ricordi faccio pure un appello magari un attenzione per gli addetti stampa di Telefram perché magari un giorno Rofrano sarà la squadra di promozioni e noi saremo sempre qui a filmare sotto l'ombrella e l'estate siano lì sotto il sole e l'inverno tra il gel e la nere supportati da un solo coro dai Rofrano sono anche dei cori il primo uscio bravo Luca bravo 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 Te saluto Dove? La gente se gli spazi si comincia a attrezzare con ombrelli La parata di Robertino che merda un applauso E te devi andare a chiedere te odo, non mi facci te a piava che era un buio Per quanto me mi interrompe le riprese No Ma perché dai chiove, mannaggia Piova la cucina Mi tocca Mi tocca Mi tocca Mi tocca Ma mettete a chiedere te odo Non guardate l'ordine Requi No Mi tocca Me Che Din Le Si Si Se Si Di Sus irmine Ma ma non è ma io non sono buon anno ma non è buon anno ma non è buon anno ma che è il tempo No, non ci vediamo, non ci vediamo, non ci vediamo Ehi Giorgio oh la conga quando è vecchio che fa? Se ne fai pure Mario E' come stanno le cose chiudono ma non veni c'è ma Sì, non c'è nessuno si stai imbundando si stai imbundando quando mo c'è cattamano ha fatto sordi? si si no cresci sordi crescimo cresci si è fatto qualche si si è emozionato che braccia forte forte esordio non esatto il debutto del titolare il debutto del titolare a fine campionato per il nostro meglio riconosciuto come Fiscio fratello del nostro Fiscio Staffelli o Giorgio come viene comunemente chiamato dai compagni di squadra ecco che arriva pure Mario Mario facci un saluto facci un saluto dai Mario oppala come ce lo fa questo saluto Mario? Mario ciao ragazzi direttamente da Stio Mario saluto a Stio cala pure la nebbia secondo me che caro sto fumando oggi in campo la mettiamo così la mettiamo così ottima panghina questo Antonio chi è questo tuo primo? è Don Marco ah Nicolino qui è Don Marco ogni domenica incontriamo un simile di qualcuno Peppi attendo a Don Marco oh 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 secondo me la parola pure si spende la partita si? eh si calava la nebbia no vabbè guarda ora pure ci vede scambato si ah che ho vede di te che le temi no vai caralbietro non ci vede tanto non si accomincia a vedere più niente questi fumoggi facciamo tacere i fumoggi misi oh 40 anti 45 25 9 torno committed 20 ma che cazzo l'ho fatto no ma perché? bravo bravo che stanno fatto? non ti capisco ma non c'era la nebbia? no non c'era la nebbia ma non c'eraavevo usando andone oh oh la visibilità oramai è andata sospendete la partita sospendete la partita cellerino assassino cellerino assassino c'è sta cazzo di pioggia ma così non venisci più rosa 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 sbagliato non si sono intesi i due giocatori si vede qua qui si vede sulla panchina chi? non mi sto imponendo sulla mente mi si dice bagnato ti butto fortuna però finirà pure il nostro gioco che cazzo? e' uno spunto e' uno spunto quanta manca? mi sono passate 12 minuti che cazzo? l'ho fatto una scorreggia da telerofrano e tutto secondo me l'hanno comincia a scotolare un po' con ombrello perché se non può cominciare a cari gucci malamente è un buon nino l'obiettivo non era quello però la prova tv qua e finirà una stessa in un momento che lo scopre se ti vuole giù che i gocci cagare con quella cosa che si presenta là ed è ricco e chi è da l'edrata dopo? ehi ci che ha dovuto fare? andate 10 anni fa roba se qualcosa mi viene te ne chiamo ciò la vi esperisci 4 lunedì è domenica lunedì mattina salutiamo la nostra amica mg per s mutazione cappella salutiamo anche giovanna di laurino visto che hai partito con laurino sicuramente seguirai rattuso zonoro rattuso non ti avevo mai visto in questa festa di rattusaggine ma non è un rattusaggine stiamo buttando solo per poi ci stiamo bagnando ci stiamo bagnando da notare vai Carlo! un'azione limpida in aria come si mangia un buono te lo dico prima che sono stai all'interno si mangia un buono ma ne ho ti dico prima che stai all'interno? non si vede niente il portiere è pronto al rilancio che si vede come se fosse al rilancio non è colpa nostra colpa del tempo il pallo come si vede per esempio quando si vede vabbè si domarec ha recuperato il pallone domarec ho il zewiski ho il zewiski ho il zewiski ho il zewiski io sono ancora qua e già io sono ancora qua e già si aspetta ma come ho l'esce ho il pallone ha bagnato Ah, fattu Quattro volte Ma non ti vedi un gaspito Io sono andato alla cabina Io stavo ripigliando E come ci vuoi? C'è una lista Sì, fai a stampare Eh, te l'hai trovato un ombrello piccolo Dai, vieni qua sotto Vieni qua Vediamo la stella in donna Alla nebbia Facciamo che ho in giuposto Un saluto da Telerofrano Un saluto, un saluto, un saluto Un saluto, un saluto Un saluto Ciao Telerofrano Ciao Telerofrano Sono al turno a vedere la partita Che ho fatto il saluto Un saluto Un saluto Che ho fatto l'altro? Un saluto Un saluto Un saluto Un saluto E ho fatto la partita Una partita proprio di merda Ci metto le bippe aca Mi calda Nicolino a bagno scappa la sciocca quando è tornato hai un atteggiato un'altra un'altra cosa e' fatto a che ora mi arriva a roma un'atteggiata ah io tutto sto mattina ho cominciato a rimanere mattina e' chi ora io? e' il 9 e' il 9 giù a tutti un anito di vento spazza via la nebbia ho già cominciato a rimanere a giratene poi appoggia a fredda oooh ma tu sei ma te sei scampato pure a genova ho questo ambraccio ti ha detto? l'acqua non c'è mai si sanno tutto un pochino l'abbiamo anche ripetuta io non ho capito che la tua mamma voleva imbarca stessere vedi stamattina sul partito mi fai già ho fatto papà ma si' aspettato uno parlo di roma quale ho fatto il giù e' il giù non è papà no veramente che cazzolana ho detto che da la settimana prossima la settimana ha detto non è che date e che date ancora fa morgana nooo ooooo mannaggia mister incita a vendervi sta a Torino raffaele verso raffaele l'abbiamo capito chi sta a fare? non so un turca non poteva non so fuggi 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 ma Temetro non fugga e prende il pallone che faccio? non sporca il pallone Vieni allora! Beh! Domenico! Spera me, andiamo! Che buone le mele! A caramelle! Buon avrei! Vieni già! Va bene! Indovina la prima cosa che mi ha domandato di Domenico Ha fatto così Buongiorno! Domenico! Buongiorno! Vieni dalla sua Francia! Ma... Che faccio? Cominciamo oggi, ma ti accuggiamo fuori, non ho colloqui! Come vuoi dire? Ma è proprio così! Eh! Don Duccio! Ormai siamo famosi con Don Duccio! Come ne abbiamo Don Duccio! O che papà mi ti abbia una fai di asola, una casa! Da... Da... da un appartamento papà! Doviene perché me ti mandai! Doviene perché me ti mandai! Doviene perché me ti mandai! Non riesco che sei guarda il partito! Sono dei visitatori... Pi accaniti! Sì! E la faremo un bello primo piano mentre recupera il pallone! Lo premiamo così! E quando sarai da Cono la soppressata ci sarà anche per te! Noi la promettiamo e le manteniamo queste soppressate! E' vero Teodoro? Ci dai questa conferma? Vediamo che il nostro fiscio lancia una frecciatina! No, no! No, no! Non una frecciatina! Fiscio! Non ritardo! E' andato Marco lo! Ma che dava nebbia vai appena! Non senti tu adesso! No, noi c'hai indo, vieni! Vieni, vieni, vieni! Andai pare che non sconde! Ma non dà che faccio ciascunozione per bene! No, no! Vieni, non c'hai fatto quel c'ho galato! Tu ti vieni subito! Coggia! Vieni tu! guarda però, guarda! guarda! è accaduto che in dubbio erano un'idea più a casa con questo cane e andiamo fermati, tanto! se non cazzo, stavano pure i barris e vado a guardare! ma dove? ma dove cazzo? ha avuto la meglia ma dove cazzo? ha avuto la meglia sull'uscita quante manca a fine primo treno? ehhh... tra la mezza letta eh, ancora mezz'ora mi ha staccato 45... no, qua si viene... forse... 5 minuti sai, chido, ma dove vallo chido? gli valli eh, dai, dai non cazzo... dai, dai, dai dai, dai che c'era! bravo albito! tu sai c'era un numero lì c'è da... ad ora... ...maishá da... ...amigà rapido mi hai incontrato e' uno conoicciuto lì c'è, c'era che dada indifesza lì c'era... che ha già fatto? ha già fatto ha già fatto ma che ha visto? ma comunque che è in difesa? chi ha avvicinato al sandro? credo che ha segnato per un gol chi ha avvicinato al sandro? questo qua oh guarda me è finita la partita è una pozzerita grande questa nooo piccio c'è chiudono vicino noi i voti chiudono fatta piccio e ti chile non bere non le parole bravo balotelli la persona deve mettere tutto balù è scambato e stefania come stai facendo? beh mi vietti che mi rossi così non mi diamo non ho preso la mia trossa uno a uno ma non ti devi evitare non mi riavano ma anche penso che non lo so non lo so non lo so mi capito che a dove aveva potuto mai incontrare al soraya anche lui è un cliente qui sul destino la bottiglia! la bottiglia, la bottiglia, la bottiglia è tanto vino lo calo! vai Don Marco e c'entro campo! che cazzo fanno? c'è un quadro appicciato ma hai scambato? c'è un quadro appicciato ma hai scambato? non c'è scambato ma fa la capanna? la capanna dello zio toto non fa le tavolure non è una cosa complicata ma questa mutazione nulla è impossibile da dove ah? ah che sono? andò andò ma che te fa ne ha fatto prima? vai andò e c'è la proponga famosa raga non ci fanno un po' di telecrola si 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 è tanto vino lo calo quant'è zio bomba vai rai al giobobo mi spinge è il derby per lui, per giobobo è un clima derby vai cazzo cazzo guarda come me fa tutto eeeh albidro bravo bravo peccato però che la bottiglia la bottiglia bravo il piede lo so rai è tutta la di cazzo non si vede non ne si passava vai Michele vai non è che si è scrivato è il mio c***o sto a posto mario sto a posto ci dirò non ti porto un cazzo bello è stefano l'ha posteggiato proprio l'ha posteggiato proprio c***o bravo carlo c***o 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 ho fatto l'assist più bello sanno trovare come hanno un gol non ci demoralizziamo sul più bello perdiamene è meglio che ora ci vieni l'ombrello perché sennò che questo non è una gocciola e vengo a fare la foto caccio, come si o no? combattuto ringraziamo sempre con l'ombrello non sappiamo chi è ma quale è voi? Mario facevo capostrada in mezzo e mezzo a piedi come uno picco a piedi come uno picco a piedi come uno picco ooooh 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 guarda, ora che stai scendendo ora ma io non ce la faccio a bricci tengo problemi nella vista come troppo che mi fiume oolla ooooh ooooh uoooh uuuuuoh uoooooh uoooh oh dieci lì lì il 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 non c'è ma proprio male travesse a prima mattina quando è in base a tanta cassa si pilla, a mattina, da tantissigare non vabbè non vengono vendere caffè se non lo sai caffè io no io, mi stanno cominciando a bruciare l'occhio questa cassa di cosa si è fatto cassa ma perché è bucatti, il terreno dai dai vai Michele no Michele è cacchetti di gomma vai continui, continui vai gioca, non avere timore vai che non esce sei fermato signore, prendi una decisione è chiaro, è decisa Sambuca Molino ma perché? ma perché? ma perché? ma come è nato? ma come è nato? ma come è nato? ma perché non lo capite mai? c'è una passata c'è una limpida comunque è da comunicare che c'è una limpida occasione da gol per la Rofranese che è sotto di 1 a 0 tutti quelli dell'Aurino bestemmine contro l'Aurino vediamo l'affermazione di Michele che va verso la panchina Michele lascia la gol un saluto un saluto vediamo che il capo si tappava rissa dai rissa, rissa uì rissa una stanna parla Zero dai una una broma questo vende macchina frutta la bottiglia dopo carmè c'è la bottiglia come tormentone di queste vieni a studiare la versat ora dà la buonissima ora non sè c'è che cazzo ahah c'è da nicolino dai a botte intiamo appennò per il culo che si gara uno sono tutti nell'aria ma che hai sbagliato calo rattozzato è in seconda c'è che significa? da prima tu cazzo sai ma chi ha fatto il biscotto per la punizione io vengo inter io vengo inter poi la punizione è in seconda per l'inter tira adriano segna gol no? poi l'albitro è nulla il gol il biscotto è tranquillo no 1 a 0 stavo perdendo 1 a 0 sei soldato è venuto in un secondo tempo che la partita era 0 a 0 poi il biscotto si gira verso il tabellone vedi 0 a 0 scatta il biscotto nella tuttora aaaaah 0 a 0 a eeheh non si non era accorto che era che sono ricco un saluto al biscotto a presto vai vai Frenci 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 a polo a polo e Stefani bella polo bella polo bella polo bella polo bella polo ahahahah lo sclero del giocatore visto che fai cambia questa giocatore Tira che l'incangelo la bottiglia la bottiglia ma che fa la bottiglia 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 la bottiglia